Niente tagli ai comuni e niente tagli anche per le città metropolitane. Sono queste alcune delle novità della manovra finanziaria che però dovranno essere ancora ufficializzate, così come si attende di conoscere la dotazione finanziaria della legge Realacci sui piccoli comuni. In arrivo, usiamo sempre il condizionale, ci dovrebbero essere risorse disponibili per circa 3 miliardi che per i comuni contribuiranno a chiudere alcuni conti aperti, quali la vicenda degli errori in sorti nel passaggio ICI-IMU e dal ristoro delle spese per gli uffici giudiziari, così come la copertura del fondo pluriennale per gli investimenti. Stando alle anticipazioni viene poi riconosciuto e premiato per il 2016 lo sforzo che i comuni fanno per accogliere e integrare i profughi con una tantum di 500 euro a profugo, incentivo che l'Anci propone da tempo. Secondo il neopresidente eletto Antonio De Caro sono rifinanziati fondi su edilizia scolastica e dissesto idrogeologico. La previsione di 4 miliardi di nuove entrate da attività di compliance sulle multe può poi rappresentare una opportunità importante per i comuni anche per alleggerire le regole nuove di contabilità, ma su questo argomento non si conoscono ancora le modalità. C'è poi il finanziamento integrale dei progetti del bando periferie dei comuni per oltre 2 miliardi, ma su questo fronte per trasformare i comuni in stazioni appaltanti efficienti è necessario un intervento che modifichi il nuovo codice degli appalti e le norme vigenti sul turnover del personale degli enti locali. Come Anci, conclude il presidente De Caro, incontreremo il governo nei prossimi giorni per ottenere ogni risultato utile per i comuni sulla base della piattaforma proposta.